L'unica nota stonata sono le palle perse che dobbiamo essere un po' più attenti. È chiaro che giocare a ritmo alto ti può portare a perdere qualche pallone in più, però abbiamo un po' esagerato credo in questa serata, le palle perse. Però ecco l'importante era giocare la partita, allenarsi, ruotare tutti i giocatori, provare a recuperare Guayana che rientrava dopo l'infortunio, quindi dosare un po' tutti i minutaggi e prepararsi per la prossima. L'obiettivo che avevamo era questo, non rischiare, siamo riusciti sempre mantenendo la margine adeguata.